La Compagnia Nazionale di Danza Spagnola è entrata a pieno titolo negli aiuti per gli ucraini. A Madrid sono arrivati i ballerini di Kiev, che non avrebbero mai immaginato alla vigilia dell'inizio dell'invasione russa di partecipare alla loro ultima prova. La direzione ci ha informato il giorno successivo che tutti gli spettacoli sono stati cancellati. Molte persone hanno iniziato a lasciare l'Ucraina. A Madrid hanno trovato la migliore accoglienza possibile con una pianista della Compagnia, che è anche ucraina, e li ha aiutati nelle pratiche amministrative essenziali. Ho aiutato per i documenti, le tessere dei trasporti pubblici, le tessere della previdenza sociale, in modo che possano andare dal medico. Una ragazza aveva mal di denti, le ho trovato un dentista che poteva curarla gratuitamente. Le sette ballerini ucraini sono qui grazie al programma di talenti emergenti, che attrae studenti degli ultimi corsi, sia nazionali che internazionali. Tre di loro eseguiranno a metà maggio Giselle al Teatro Real di Madrid. Il direttore della Compagnia ritiene che la principale responsabilità sia che la partecipazione di questi professionisti non appaia come un atto di carità. La decisione si fonda su criteri artistici, che evidentemente aprono le braccia, ma non è soltanto un aprire le porte. Mettere in scena qualcuno è una responsabilità verso il pubblico, verso questo settore teatrale, questa compagnia, la danza che si pratica in Spagna. Dopo un inizio segnato dalla tristezza, ora i compagni di squadra e la dirigenza riescono a farli sentire quasi a casa. Sì, mi sento a mio agio. Sono molto grata per questa opportunità della compagnia di balletto. Qui è fantastico.